Molti pazienti arrivano alla nostra osservazione e ci dicono Dottore, mi si è piegato improvvisamente il pene. Che cos'ho? Hai una malattia. È una malattia importante, una malattia determinata da una fibrosi dei corpi cavernosi che sta deformando i corpi cavernosi e soprattutto piano piano condurrà il paziente ad avere un deficit erettivo. Bisogna fare una diagnosi mirata, quindi fare una ecografia associata ovviamente a una visita specialistica nelle mani esperte. Una volta provati i trattamenti non invasivi, quindi dei trattamenti fisici o dei trattamenti rigenerativi, la soluzione finale al problema è la protesi. Due cilindri che vanno dentro i corpi cavernosi con un meccanismo. Gonfiando questo meccanismo il pene va in erezione.